Allora proviamo iniziare a analizzare alcuni, ricordate la volta scorsa abbiamo introdotto il ciclo while e qui nelle slide ci fa vedere un po' di esempi di cicli while già scritti, non guardiamo la parte destra della slide, cerchiamo di arrivarci, di ragionarci su che cosa succede, qui sono tutti i cicli che si somigliano a tutti ma hanno qualche piccola differenza l'uno dall'altro, noi ci abituiamo un pochino a fare amicizia, allora per leggere codice, un codice che contiene un ciclo io così per istinto parto dalla condizione di iterazione, dall'istruzione di controllo del ciclo, while condizione total minore di 10, questo mi dice che questo ciclo è governato dal valore della variabile total e allora vado a vedere come evolve questa variabile, vedo che total parte da 0, è stata inizializzata prima del ciclo, dentro il ciclo faccio cose ma stampa total uguale total più i, quindi questa total viene incrementata, incrementata di una quantità che non è costante, non è più 1, è più i, boh l'hanno fatto così, quindi vuol dire che total parte da 0 e poi ogni volta si incrementa di una quantità che poi cerchiamo di capire quant'è, se questa quantità i è positiva, è sempre positiva, allora prima o poi il totale diventerà maggiore di 10 e io potrò uscire dal ciclo, se fosse negativa potrei avere un problema perché questo total si potrebbe decrementare e quindi non arrivare mai a superare il 10, creando un ciclo infinito. E allora andiamo a vedere i che cosa fa, i è un'altra variabile che viene aggiornata, calcolata dentro il ciclo e come tutte le variabili che vengono calcolate o aggiornate dentro il ciclo avrà un valore di partenza che deve essere impostato fuori dal ciclo, in particolare vedete che è inizializzata a 0 anch'essa e dentro viene incrementata di una, di un'unità sempre. Quindi questa cosa mi dice? Che la variabile i è una variabile tranquilla, 0, 1, 2, 3, 4, la variabile i conta il numero di iterazioni, la prima iterazione varrà 0, alla seconda varrà 1, alla terza varrà 2 e così via, anzi in realtà quando inizia la prima iterazione i entra col valore 0 ma subito viene messa 1. Questo 1 viene sommato al totale. Poi la seconda iterazione cosa succede? Che i da 1 passa a 2 perché viene incrementato di un'unità e al totale sommo il valore attuale di i che sarà 2. Alla terza iterazione i viene ancora aumentato di un'unità quindi varrà 3 e la variabile totale sommo 3. Quindi che cosa sto calcolando? Sto calcolando una successione di valori nella variabile i che valgono 1, 2, 3, 4, 5 e così via, si incrementano secondo i numeri naturali. La variabile total invece sarà 0, 0 più 1, la prima volta che faccio questa somma vale 0, perché l'ho preso da sopra, più 1, perché i la prima volta vale 1, quindi ho 1. Al secondo giro farà 1 più 2, al terzo giro farà 1 più 2 più 3, al quarto giro farà più 4. Quindi ad ogni iterazione somma 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6, cioè somma ogni volta il numero intero successivo. Quindi la sommatoria di termini che crescono in un certo senso e si ferma quando questa sommatoria vale 10 oppure più di 10. In particolare 1 più 2 più 3 più 4 fa proprio 10 e quindi dopo aver stampato il valore 10, qua vediamo la visualizzazione di questi dati, questa print stampa come primo numero il valore di i, come secondo numero il valore di total, stampa ancora il 10 e poi finisce. Attenzione il 10 lo stampa, qui c'era scritto total minore di 10, minore il valore di 10. Perché la condizione non è una bomba che scatta esattamente quando total diventa maggiore di 10, questa condizione viene verificata solamente dopo che ho eseguito tutto il corpo del ciclo e poi torno su. Quindi io avrò total che vale al terzo giro 6, faccio 6 più 4, 6 più 4 fa 10, però a questo punto nessuno controlla che quel 10 sia o non sia minore di questo. Vado avanti, faccio la print in cui stampo 4, 10, poi torno su, a questo punto si va a chiedere se total è minore di 10 e non lo è più perché adesso è uguale e si ferma. Quindi la condizione viene sempre verificata prima all'inizio di un'interazione. Mi chiedo, devo farla questa iterazione? Beh, la volta prima total valeva 6 e quindi dicevo sì, devi farla. Una volta che entro la faccio comunque tutta fino in fondo e alla fine mi andrò a chiedere di nuovo ma devo farne ancora un'altra di iterazione oppure no. Quindi il fatto che qua abbia stampato un valore di 10 non è incontrato con questa condizione qua, perché la condizione viene testata subito dopo questa stampa. Ok. Quindi qua sto facendo la somma dei numeri interi, la somma dei primi numeri interi. Poi questo secondo codice come è fatto? È uguale a quello precedente ma c'è un segno meno. questo è un problema perché, vabbè, mi calcolo ovviamente la somma, per lo stesso aggiornamento di prima, dei primi numeri interi negativi. Meno 1, più meno 2, più meno 3, più meno 4, ma crolla la condizione total minore di 10. Perché partendo da 0 e arretrando l'indietro la condizione total minore di 10 sarà sempre vera per l'eternità. Quindi questo è un ciclo che apparentemente calcola la stessa sequenza ma non si ferma mai. Andrebbe avanti all'infinito fino a quando non ci stufiamo e non lo fermiamo noi. Per farlo fermare dovremmo qua scrivere il valore total maggiore di meno 10, ad esempio. Oppure il valore assoluto di total minore di 10. Una condizione che sapendo noi che questa variabile diventa sempre più negativa la fermi a un certo punto. Quindi una piccola differenza qua mi fa andare da un ciclo normalissimo a un ciclo infinito. Poi sotto cosa abbiamo cambiato? Abbiamo preso questa stessa e abbiamo messo, cambiato, abbiamo, sulle slide c'è cambiata la condizione, dice total minore di 0. In questo caso questo programmino, questo frammento di programma non fa niente. È lecito per un ciclo wild eseguire 0 volte il suo corpo se la condizione che abbiamo scritto qua è già falsa in partenza. Cioè appena arrivo qui valuto la condizione e già la prima volta che la valuto la trovo già falsa. E allora lui deciderà tranquillamente di non eseguire il corpo di questo ciclo. In questo caso total è uguale a 0 e quindi la condizione total minore di 0 è falsa. Quindi qualunque danno io possa fare qua sotto non lo faccio perché non viene eseguito. Questo magari era un tentativo maldestro di dire fermati se sei negativo ma non è venuto bene. Attenzione se al posto di questo minore ci fosse un minore uguale saremmo nei guai perché col minore uguale la prima volta lo esegue, quindi entra nel ciclo con total uguale uguale a 0, poi lo decrementa perché qui c'è la versione cossegno meno, comincia a diventare negativo e se è negativo total minore di 0 sarà sempre vero e quindi questo ciclo non termina mai. Dunque diamo altre versioni. Qui qualcuno ha scritto while total maggiore di 10 perché magari pensavo quando arrivi 10 ti fermati e quindi mi ha messo la condizione di uscita in un certo senso anziché la condizione di rimanere dentro. Ecco questo è sbagliato nel momento, sbagliato perché la condizione del while deve essere una condizione di iterazione non una condizione di terminazione. La terminazione è il contrario dell'iterazione. in questo caso di nuovo non entro neppure nel ciclo perché total uguale a 0 e lui si chiede ma total, lui dice, devo eseguire questo ciclo, questo corpo del ciclo se total è maggiore uguale a 10. Poiché attualmente 0, 0 maggiore uguale a 10 è falso, quindi non faccio niente, vado avanti, proseguo con le istruzioni successive del programma che saranno qua. Viceversa qui c'è la versione in cui non è maggiore uguale a 10 ma è maggiore uguale a 0 e questo è un po' il simmetrico di quello che c'era prima con i numeri negativi, total uguale a 0, maggiore uguale a 0 sì è vero, quindi entro, eseguo, poi ci sommo un valore positivo. Quindi total assumerà la somma dei numeri naturali, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 ad ogni iterazione ne aggiungo un pezzo ma purtroppo non mi fermerò mai perché total è sempre positivo quindi questa condizione sarà sempre vera e non succederà mai di uscire dal ciclo, quindi questo è un ciclo infinito. A differenza di quello della slide precedente c'era scritto guarda qua, dato che total è un ciclo infinito e mi faceva vedere che stampava i valori. Perché qua mi dice invece che non stampa niente pur facendo un ciclo infinito quindi calcolando tutti questi valori. Qui mi dice che non stampa niente perché c'è un'altra piccola differenza in questo codice e guardate la print dove è messa. È allineata col while e non è allineata col corpo del while. Quindi mentre negli altri casi la print era dentro al ciclo e quindi ad ogni iterazione stampavo un dato poi magari stampavo troppi perché non mi fermavo mai ma ad ogni giro stampo un dato qui l'ho messa fuori dal while. Fuori vuol dire dopo. Dopo che hai finito di fare le iterazioni e quindi superato la condizione che volevi allora dopo stamperai il totale. Qui purtroppo poiché il ciclo va avanti all'infinito non ci sarà mai un dopo e quindi il programma calcola, calcola, calcola ma io non vedo niente non me ne accorgo, non mi accorgo che sta stampando lenzuolate di numeri perché la print l'ho messa in fondo. Quindi purtroppo, o per fortuna come volete voi, i dettagli contano. Un maggiore al posto di un maggiore uguale, un più al posto di un meno, uno spazio al posto di non uno spazio cambia anche pesantemente il significato di un ciclo, di una condizione che poi viene usata per governare un ciclo. Diamo un esempio, questo qua, non leggete il resto, leggiamo solamente questo testo qua. leggere una sequenza di numeri, il programma interrompe la lettura quando ho letto dieci numeri oppure quando legge il numero zero. Prendiamo questo testo qua e copiamocelo nel nostro editor, così ci ragioniamo. chiamiamolo legge dieci. Quindi qui chiaramente dobbiamo impostare un programma che ripeta una certa operazione e l'operazione da ripetere è leggere un numero. Quindi cosa devo ripetere? Il corpo del ciclo sarà n uguale input numero. Questa è l'istruzione che devo eseguire tante volte. Questo testo qua non mi dice cosa devo farmene di questo n. Dice solo che devo leggerlo. Vabbè, giusto per vedere cosa succede facciamolo stampare. Quindi questo è il blocco di programma che io devo ripetere. Dopodiché lui mi dice interrompi la lettura quando ho letto dieci numeri. Quindi vuol dire che mi sta dicendo che questo blocco di due istruzioni va ripetuto dieci volte. Questo lo sappiamo fare. Abbiamo bisogno di un contatore che conti fino a dieci, che governi la ripetizione di questo ciclo. Quindi io avrò un contatore, chiamiamolo i, i come numero di interazione, y li minore di dieci, fai queste cose e incrementa i. Quindi ho una variabile i che uso per controllare il ciclo e come dice la legge la deve comparire almeno in tre volte questa variabile fuori dal ciclo per inizializzarla come condizione e devo ricordarmi di aggiornarla. E' facile dimenticare quest'ultima. Quindi questo è un programmino onesto, tranquillo, che mi chiede dieci numeri che io inserisco e lui mi ristampa. Che siano effettivamente dieci, dovrei contarlo. Magari magari diciamolo, inserisci il numero uno, inserisci il numero due, stampiamolo anche. Quindi questo messaggio delle input potrebbe avere un parametro dentro dove ci metto l'ordine del numero che sto leggendo. Quindi gli dico inserisci il numero uno e allora inserisci il numero uno. Inserisci il numero due che non vuol dire inserisci il numero due, inserisci il secondo numero sarebbe, no? Inserisci il terzo numero, 55, inserisci il quarto numero, meno 5 e così via. E poi inserisci il numero dieci, il decimo numero della serie e lui termina. Qui cosa ho fatto? Ho fatto due cose semplici. Una è usare nel messaggio di input una f string per poterci inserire dei valori di variabili. Quindi questo messaggio di invito ogni volta è diverso. E ho usato i più uno per indicare all'utente qual è il numero che sta inserendo. il primo, il secondo, il terzo. Non ho stampato direttamente i perché mi avrebbe stampato il numero zero, uno, due avrebbe contato a partire da zero. Ma visto che i normali esseri umani non sono ancora stati illuminati dal fatto che si conta a partire da zero è bene fargli vedere che stiamo contando a partire da uno. Noi internamente i ce lo teniamo da zero a nove per contare fino a dieci. Però nell'interfaccia utente è bene stampare i numeri da uno a dieci quindi ci faccio un più uno per renderlo per tradurlo da da programmatore a essere umano. E fin qui abbiamo implementato questa parte del programma. Dobbiamo ancora implementare un altro pezzo oppure quando legge il numero zero oppure è letto da cosa? È letto da interrompere la lettura. Quindi devo fare in modo che quando lui ha inserito zero termini l'inserimento dei dati. quindi vuol dire che devo aggiungere la condizione che n sia diverso da zero per poter continuare a iterare il ciclo. Se n è diverso da zero non va bene. Se n è uguale a zero non va bene. Allora il primo istinto potrebbe essere beh, ok ho letto n se n è uguale a zero print esco dal ciclo. Però lo dico ma non lo faccio fatto così, no? Cioè diciamo così devo uscire dal ciclo siamo più onesti perché hai inserito zero cioè questo if l'ho messo qua perché ho appena letto il valore vabbè a parte il fatto che l'ho stampato ma non importa ho appena letto il valore e il valore che ho appena letto mi dice che dovrei uscire dal ciclo. Però poverino il ciclo è governato da i non è governato da n e quindi lui va avanti in perterrito comunque dieci volte. Ok? questo non risolve questo problema. Mi dice solo dovrei uscire dal ciclo ma poi non esce perché in realtà il ciclo non l'ho mica toccato l'evoluzione di non l'ho toccata. Come potrei fare per uscire dal ciclo? Anche dimmi qua. Allora lui suggerisce dicendo guarda io allora vado a controllare qua perché è lì che prendo la decisione se n è uguale a 0 diverso da 0. Adesso però mi dite se qua devo mettere and or e se devo mettere n uguale a 0 oppure n diverso da 0. Cioè devo aggiungere alla condizione i minore di 10 che c'è e deve rimanere un'altra condizione che sarà che controlli se n è uguale a 0 combinandola con la condizione precedente allora la combino in and o in or e la condizione è uguale o diverso gli do 20 secondi and diverso ok? Non ho contato fino a 20 scusate ho risposto prima non riuscivo a tenere cioè io eseguo il ciclo se i è minore di 0 e contemporaneamente n diverso da 0 metto le parentesi non servirebbero le parentesi ma le aggiungo solo per per chiarezza per evidenziare che prima faccio questi confronti e poi dopo li metto insieme cioè se n diverso da 0 e anche i è minore di 0 vuol dire che i sono ancora ho letto solamente il terzo il quarto numero e questo numero che ho letto non è 0 e quindi vado avanti se invece il numero che ho letto è 0 mi fermo perché mi fermo? perché se il numero che ho letto è 0 questa condizione n diverso da 0 diventa falsa e se è falsa in un end devono essere entrambe verificate per poter andare avanti per poter essere considerata vero e quindi basta che una delle due diventi falsa per far sì che escono il while una delle due diventa falsa o quando finalmente ho letto i 10 numeri oppure quando anche prima della fine inserisco 0 il problema adesso se siamo d'accordo su questo il problema è che mi dice anche qua mi segnala un errore qua su n dicendo ma sì ma scusami alla riga 6 chi è n? che non è ancora stato definito perché io sto testando facendo un confronto un calcolo sul valore di n ma n lo solo alla riga 6 ma n lo leggo alla riga 7 e va bene che lo leggo alla riga 7 perché è qua che devo leggerlo contarlo eccetera eccetera allora qui questo programma non parte mi dà errore perché n non è definito alla riga 7 allora qui ci sono vari modi di affrontare questo il modo più semplice è quello di dire ma senti n è uguale a 44 mettiamogli un numero che sia contento inizializziamo n a qualcosa purché non sia 0 e quindi inizializzo una variabile che si chiama n ha un valore qualunque che mi obblighi a entrare nel ciclo while tanto poi questo valore qualunque viene immediatamente sostituito dalla input e poi faccio il lavoro normale allora così funziona inserisci il numero numero 1 lo inserisco inserisco 3 inserisco 6 inserisco meno 3 poi se metto 0 a un certo punto ho sbagliato dunque inserisci il numero 5 0 ha inserito 0 dovrebbe uscire dovrebbe stamparmi grazie ho dimenticato una int messa qua sta leggendo stringhe non numeri grazie quindi ripartiamo inserisco il numero 2 3 meno 4 0 ha inserito 0 e uscire dal ciclo l'errore prima mio era che avevo usato n uguale input in quel caso n era la stringa mentre invece sto lavorando con dei numeri quindi devo convertirlo in intero ho dimenticato la conversione della stringa intero qua quindi questo numero che ho messo 44 può essere più 1 può essere meno 7 a piacere vostro non ha nessun significato è un trucco per inizializzare la variabile e obbligarmi ad entrare nel ciclo quando poi un valore vero verrà assegnato a questa stessa variabile vuoi piacervi o non piacervi diciamo che ottieni il risultato questo è un modo un altro modo qualcuno potrebbe dire ma allora già che devo inizializzare n a qualcosa tanto vale che inizializzi n al primo valore che devo leggere quindi io potrei prendo questo valore questo codice lo replico sotto anziché n uguale a 44 mettere la input qua quindi leggi vedete che tra l'altro qua non va neanche male perché i vale 0 e qui sto scrivendo inserisci il numero 1 quindi il primo numero lo potrei leggere fuori dal ciclo e se questo numero è già uguale a 0 non entro manco nel ciclo no forse va anche meglio di prima adesso poi devo fare i conti bene no perché ho letto da un numero già fuori poi nel ciclo while ne leggo 10 e quindi alla fine rischio di leggere uno di troppo ma in realtà c'è un problema in più nel senso che io leggo questo numero qua poi ne rileggo un altro lo rileggo subito dopo allora se la mia operazione che devo fare era stampare il numero anche questa stampa dovrei replicarla fuori dal ciclo così allora cosa sto facendo qua sto spezzando il ciclo dicendo senti io dovrei fare 10 giri di questi 10 giri uno lo faccio fuori e gli altri 9 li faccio col ciclo perché sembra che facciano la stessa cosa queste due istruzioni e queste due istruzioni ma la differenza è che queste due istruzioni in più definiscono la variabile n cosa che invece dentro non viene fatta si devo ancora mettere a posto i conteggi ok quindi dico la prima iterazione la faccio fuori e invece il ciclo y lo farò per le iterazioni dalla seconda alla decima quindi in questo caso basterebbe che io a questo punto facessi tutti i compitini per bene e non solo faccio il corpo del ciclo ma aggiorno anche l'indice quindi incremento 1 perché incremento 1 perché ormai il primo dato l'ho letto e quindi se il mio i mi conta quante volte l'ho letto tanto male metterò 1 cioè 2 cioè il secondo numero allora a me piacerebbe di più questo posso fare così oppure posso non incrementare i e mettere i minore di 9 per ricordarmi che devo leggere 1 in meno a me piace di più così perché almeno il significato di i è sempre lo stesso cioè l'ordine del numero che sto leggendo e quindi praticamente ho un while i minore di 10 con i che parte da 1 non più da 0 e quindi faccio effettivamente solo 9 iterazioni al massimo 9 perché poi se qualcuno inserisce 0 in mezzo continuo a valere la condizione che mi sbatte fuori questo è un altro modo di farlo quindi la prima iterazione abbiamo detto la faccio fuori dal ciclo completa e la prima iterazione completa è scusate metto il uguale a 0 fuori la prima iterazione completa è leggo stampo incremento e le altre iterazioni sono leggo stampo e incremento la sotto qua si perde questa print qua in mezzo se mettessi n lui mi dice se mettessi n uguale a 0 nella prima iterazione proviamolo fatemi commentare questo se mettessi n uguale a 0 subito allora vediamo se funziona questo io l'ho lanciato la seconda che abbiamo fatto 3 2 0 funziona correttamente inserisco 3 inserisco 2 eccetera se lo rifaccio mettendo subito 0 mi stampa inserito 0 poi termina e non entra nel ciclo perché arriva alla riga 23 dove questa parte di condizione è falsa questo è un modo un altro modo sono almeno dieci modi di rimescolare le istruzioni ma per aiutarci a vederle ha il difetto che se l'operazione che devo fare non è una semplice print ma fosse una cosa complicata la devo fare due volte dentro il ciclo e fuori dal ciclo allora riproviamo un'altra variante riparto da questo riparto da questo e ridico di nuovo leggo il numero n ok? che era il primo passaggio che abbiamo fatto sulla seconda variante adesso mi dico devo fare le operazioni le elaborazioni a partire dal numero n che in questo caso sono su questa semplice print ma immaginatevi 50 righe di programma questa elaborazione in realtà ce l'ho già scritta qua dentro un ciclo while nel quale entrerò subito dopo allora scusami fammi togliere questa input c'è l'input che era dentro il while e non andava bene perché la prima iterazione n non sapevo quanto fosse la tolgo temporaneamente allora cosa sto facendo qua ho spezzato il lavoro che devo fare cioè leggi il dato ed elabora il dato in due metà un pezzo è prima un pezzo è dentro il foro dentro il while e vengono eseguite in sequenza tra l'altro se n fosse uguale a 0 non entro nel while che è cosa giusta se fosse diverso da 0 entro e subito faccio questo quindi questa operazione viene fatta sia che stia leggendo il primo dato sia eventualmente nelle iterazioni successive però cosa mi sono perso così così se volete possiamo vedere tranquillamente cosa mi sono perso perché se io qua inserisco 0 non fa nulla se inserisco 3 mi stampa ha inserito 3 10 volte perché inserisce e non mi ha più chiesto altre volte il numero è perché manca la input dentro il ciclo l'ho spostata fuori e non è più dentro quindi vuol dire che io dentro il ciclo devo comunque metterla questa input che ho cancellato però non la metto qui dove era prima se la metto qui dove era prima ho letto il primo numero non lo elaboro e leggo il secondo numero ed elaborerò il secondo numero e no allora il primo mi condurrei al caso precedente invece la metto in fondo non è ancora perfetto però l'idea qual è è che io la lettura del numero del prossimo numero è già una preparazione alla prossima iterazione che faccio come ultima cosa o una delle ultime cose nell'iterazione precedente è un po' ricordate quando l'altra volta commentavamo io uguale più uno diciamo sto prendendo l'i vecchio e lo sto facendo diventare la i nuova il valore finale del ciclo precedente diventa il valore iniziale del ciclo successivo e qui la stessa cosa mi predispongo a leggere il prossimo valore quindi o leggo il primo valore fuori dal ciclo lo elaboro dentro incremento e leggo il prossimo valore sul finire della prima iterazione che in realtà già è il secondo valore infatti lo leggo già con la i incrementata che verrà elaborato all'inizio dell'iterazione successiva questa riga qua 35 stampa un n che per la prima volta gli arriva da qua per tutte le altre volte gli arriva da qua 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 poi incremento poi rileggo torno su e stampo ciò che ho letto sotto quindi il fatto di tornare indietro fa sì che la prima istruzione di un while sia immediatamente dopo all'ultima istruzione dello stesso while ovviamente se la condizione rimane vera ok quindi qua ancora un problemino che adesso vediamo inserisco i numeri ha inserito 2 quindi il 2 questo qui è la lettura che arriva fuori dal ciclo questa qua di riga 33 la print ha inserito 2 arriva dalla riga 35 sono già dentro il ciclo sono entrato dentro perché n ce l'ho ed è diverso da 0 vabbè i uguale a 0 lo sappiamo inserisci il numero 2 è stampato dalla riga 39 dove i vale già 1 perché ha stampato 2 il numero 2 e quindi inserisco il numero 2 quindi questa input era sulla riga 39 questa print è invece nella riga 35 è tornato indietro n arriva su a 0 quindi va avanti questo è ancora un piccolo difetto sull'uscita se io metto 0 ah no funziona sì sì certo scusate l'avevo già risolto senza pensarci non mi stampa questa roba qua che dovrei stampare spostandola dopo che ho effettivamente letto n quindi in questo caso stampo 3 4 0 devo uscire dal ciclo ed esce effettivamente quindi dentro un ciclo alla fine noi stiamo lavorando su due istanti di tempo diversi in certo senso elaboriamo dei valori dell'interazione corrente e prepariamo dei valori che verranno elaborati a volte nell'interazione successiva un po' sincopato come modo di lavorare però ci può stare e ci evita di ripetere a volte il codice due volte allora tutte queste tre varianti in realtà fanno tutte la stessa cosa una più breve l'altra più lunga una vantaggi l'altra ne ha quella forse più breve di tutte era la prima ha un difetto che dal punto di vista estetico della purezza del codice dice ma perché gli metti un valore di schifezza a volte questi valori sono indicati come valori sentinella un valore qualunque che di per sé non ha significato ma mi fa entrare in un ciclo 0 questo 0 qui è un valore che non è un numero da elaborare ma è un valore particolare che mi fa uscire dal ciclo cioè noi mescoliamo confondiamo dei numeri che stiamo elaborando e poi dentro questi numeri identifichiamo dei valori particolari che obbligano l'iterazione a entrare a iniziare oppure a terminare sul libro sono chiamati i valori sentinella perché sono dei valori particolari che indicano qualcosa indicano qualcosa noi abbiamo anche un altro modo di indicare qualcosa le variabili booleano cioè se io usassi una variabile booleano riprendo sempre il primo perché è più breve poi ci lavoriamo potrei dire y di meno di 10 and continua magari riesco a scriverlo prima di sera continua and ancora continua dai cos'è continua? è una variabile booleana che posso mettere true continua ma uguale true di nuovo qui sto mettendo delle variabili nella condizione di un while quindi queste diventano tutte variabili di controllo del ciclo e quindi devono essere inizializzate ed aggiornate se no non servono a niente e allora a questo punto io potrei dire se ho trovato n uguale a 0 metto continua a falso quindi ho una variabile che inizialmente è true quindi mettere and true non mi cambia niente all'inizio quando quella è vera la condizione che conta che lavora è in minore di 10 e questa nasce true e rimane true per tutta la vita a meno che qualcuno inserisca un n che vale 0 nel qual caso continua diventa falsa se continua diventa falsa vabbè incremento i che non fa male a nessuno torno su e una condizione che è i minore di 10 and falso quindi falso quindi esco in questo caso anziché ripetere la condizione n uguale a 0 qua n diverso da 0 là vedete che qua la condizione la testo due volte prima qui ma poi anche qui per decidere se devo fare un'altra iterazione ecco anziché testare la condizione due volte la testo una volta sola e fotografo il risultato di questo test dico cacchio è uguale a 0 me lo devo scrivere me lo devo ricordare me lo devo ricordare perché perché lo scopro adesso ma mi servirà nel while nella clausola while sapere se era successo oppure no e quindi trasporto in avanti nel tempo un'informazione che ho adesso adesso so che è uguale a 0 più tardi mi servirà ok parcheggiamo questa conoscenza di una variabile in questo caso basta una variabile logica vero o falso che poi testerò due istruzioni dopo per carità però non devo rileggere di nuovo tutto tra l'altro questo quindi uso una variabile logica un flag che mi dice mi indica quando eventualmente voglio uscire anticipatamente con questa logica tra l'altro se la condizione di uscita dovesse essere molto più complicata non ci preoccupa io posso avere magari tanti motivi diversi per uscire dal ciclo se dentro il ciclo che magari è molto lungo a un certo punto c'è un motivo per uscire mi basterà mettere continuo a falso e al prossimo interazione sono sicuro che esco perché ho questa valvola d'uscita l'uscita di sicurezza ce l'ho qua che tra l'altro qua quando trovo continuo a falso so che qualcuno per qualche motivo mi ha detto che devo uscire ma in questo punto qua non me ne frega più di quale sia il motivo qua devo semplicemente agire esci dal ciclo perché? perché qualcuno ha messo questa variabile da falso e avrà avuto i suoi motivi in questo caso che n fosse uguale a 0 quindi n mi piace di più perché non compare nella condizione e anche se la condizione di n fosse più complicata non mi va a rendere più contorta questa condizione qua quindi la stessa cosa si può fare come sempre in 100 modi diversi l'importante è ragionare bene su qual è la condizione questo esercizio qua se torniamo alla slide ci diceva dava un titolo un po' strano cicli misti è un ciclo la cui condizione di uscita non è semplicemente sono arrivato a 10 oppure il valore a 0 ma è una combinazione di valori di condizioni diverse e che poi devo riuscire a giostrarmi se ho condizioni diverse probabilmente sono controllate da variabili diverse tutte queste variabili diventano variabili di controllo e decido come gestire le variabili di controllo possono essere i e continua le variabili di controllo possono essere i e n dipende un po' da come la gestiamo io poi ho messo una variabile che nasce vera e faccio diventare falsa per uscire potrei anche fare il contrario potrei anche prendere una variabile che nasce falsa la chiamo a questo punto esci uguale falso e quando voglio uscire metto esci uguale true magari mi viene meglio nel ragionamento adesso ti obbligo a uscire e allora la condizione qua dovrà essere not esci and not esci e non ti ho chiesto di uscire ok? sono tutte varianti della stessa cosa banale combiniamo detto in gergo un ciclo in cui combiniamo dei contatori e dei flag ma questo se vogliamo può anche non dicci nulla a questa frase l'importante è che capiamo cosa succede qui su questa riga qua e capiamo che in iterazione dobbiamo sempre fare attenzione a quali sono le variabili che stiamo preparando e usando in questa iterazione e quelle che invece stiamo preparando per la prossima da cosa si vede i uguale ho dato un valore i ma qui dentro il ciclo non lo sto usando e se non lo sto usando dentro il ciclo vuol dire che è pronto per il ciclo dopo esci uguale true l'ho impostato alla 59 ma alle righe successive 60 61 non lo uso e quindi vuol dire che è un valore che sto impostando per l'iterazione successiva per il giro dopo invece questo n è uguale lo leggo qui ma lo uso subito qui lo riuso qui quindi lo sto calcolando per l'iterazione corrente non per la prossima ci tratta un po' di farci l'occhio chi parla di valore sentinella che abbiamo già trattato con un altro esempio dove dice appunto che ci sono quando ho un valore particolare di uscita io posso scegliere se inizializzare una variabile a un certo valore che mi obblighi a entrare oppure anticipare una lettura fuori dal ciclo che sono le due le prime due opzioni che abbiamo visto là l'abbiamo messo n uguale a 44 qui mette saldo una condizione che non è un dato vero ma è un valore che mi fa entrare oppure faccio in modo che ci sia un dato vero leggendolo fuori prima la prima iterazione la faccio fuori dal ciclo e e quindi se faccio la prima lettura fuori dal ciclo le letture successive normalmente andranno a finire al fondo del ciclo successivo del corpo del ciclo in modo che preparino per l'inizio del ciclo successivo quindi noi dobbiamo a occhio riconoscere che questa riga qua e quella riga là l'ultima del ciclo sono entrambe la riga immediatamente precedente al corpo del ciclo è come se fossero qua davanti vengono comunque fatte prima delle prime istruzioni del ciclo alla fine quando immaginiamo l'evoluzione di un ciclo abbiamo sempre tre momenti importanti a cui pensare il più facile è la generica iterazione cioè se ho dieci iterazioni da fare la seconda la terza la quarta la quinta sono tutte uguali poi ne ho due che sono diverse la prima e l'ultima in cui magari devono succedere cose diverse la prima perché sto arrivando per la prima volta posso non avere le varie inizializzate le ho messe a zero non ci sono ancora i valori l'ultima perché in qualche modo devo uscire devo avere pronti i valori per uscire e che sia un risultato quindi quando ragioniamo su un ciclo che non sia banale chiediamoci sempre io consiglio di partire dal caso centrale il caso normale cosa devo fare qua dentro quali operazioni devo ripetere questa che è il caso normale ho già fatto n iterazioni faccio l'n più unesima ok e poi mi chiedo nella prima iterazione funziona o devo fare qualcosa di particolare per la prima volta e poi mi chiedo per l'ultima iterazione già funziona così o devo fare qualcosa di particolare per l'ultima iterazione e vanno considerati come casi particolari a volte funzionano già così perché non sto facendo nulla di speciale a volte invece devo aggiungere delle condizioni devo ripetere le istruzioni ripetere i controlli e così via lo posso fare lavorando sui dati o lavorando sui booleani qui l'ho chiamato done anziché esci è comunque una variabile che mi dice se ho finito e quindi devo uscire questo è un caso in cui ad esempio c'è una condizione puramente booleana esco solo quando qualcuno mi dirà che ho fatto che ho finito che ho terminato il lavoro ok e cosa faccio una volta che ho i cicli vabbè posso pensare ad algoritmi un pochino più complicati no è una parola esagerata complicata che facciano un pochino più di lavoro ad esempio la prima cosa che può venire in mente è inserisci dei numeri e calcola la media dei valori inseriti ok allora proviamo a fare un programmino che calcoli la media quindi inserisci dei numeri calcola e stampa la loro media il loro valore medio allora se calcola il numero 9 magari pensiamo che siano numeri reali non sono interi qui detto così però è ancora troppo vago perché dico inserisci dei numeri quanti 1,2,7 o 6.000 allora possiamo dire terminando l'inserimento l'inserimento con 0 non scrivetelo perché non mi piace però è brutto questo quando inserisco 0 termina l'inserimento ma se 0 è uno dei miei dati lo 0 fa media se dovessi fare la somma non ha senso sommare 0 perché tanto non cambia risultato quindi lo 0 lo posso considerare come un valore sentinella che mi fa uscire ma se invece devo fare la media il fatto che ci sia uno 0 aumenta il denominatore e non cambia il numeratore però quindi mi cambia il valore della media quindi 0 in questo esempio lo 0 non può essere usato come un valore sentinella per farmi uscire dal ciclo e quale numero può essere usato come un valore sentinella? nessuno allora per uscire dal ciclo devo usare qualcosa che non sia un numero che ne so un asterisco che di sicuro non è un numero reale e quindi è un modo per dire basta allora cosa dovrò fare? alla fine il programma deve fare print media facile questa è l'ultima istruzione ci manca solo tutto il resto del programma davanti cos'è la media di un insieme di valori? la somma diviso il loro conteggio no? quindi media somma diviso conteggio abbiamo un numero un numero è conteggio dai ok quindi io devo scrivere un programma che legga dei numeri e mentre li legge ne tenga traccia della sommatoria e del loro conteggio quindi dovrò ripetere tre istruzioni banali n uguale numero uguale float di input numero legge legge il numero aggiorna la somma e aggiorna il conteggio questo è ciò che devo ripetere poi devo adesso devo gestire bene il controllo di quante volte ripeterlo e come farete a fermarmi eccetera però l'idea è io leggo un numero e man mano che leggo i numeri faccio le somme parziali e ogni volta che leggo un numero in più tengo conto del fatto che ho letto un numero in più così è una variabile che si ricorda quanti numeri ho letto queste due variabili sono dentro un ciclo lo devo ripetere perché devo leggere molti numeri e quindi ovviamente dovrò inizializzarli prima il conteggio sarà un intero la somma sarà un reale il problema è la condizione di uscita la condizione di uscita è che l'input che ho appena letto non è un asterisco se è un asterisco mi fermo se non è un asterisco presumo che sia un numero reale e quindi vado avanti quindi potrei dire che il valore letto non è un asterisco cos'è il valore letto? è qualche cosa anche qua che posso inizializzare una variabile che posso inizializzare a una qualunque schifezza tanto per farmi entrare nel ciclo purché sia diverso dall'asterisco oppure porto fuori la input e separo la prima iterazione vediamo prima la prima soluzione io inizializzo letto a niente stringa vuota a un valore qualsiasi che non sia un asterisco questo mi fa sì che la condizione del wild sia vera la prima volta che la incontro entro nel ciclo e faccio il mio lavoro poi però alla iterazione successiva attenzione che questo è un ciclo infinito perché letto l'ho controllato l'ho inizializzato ma non l'ho aggiornato dentro il ciclo cosa dovrebbe essere il valore di letto? in realtà dovrebbe essere il valore della input prima di convertirla in float quindi in realtà devo spezzare queste istruzioni in due e dire leggo l'input all'utente sotto forma di stringa ciò che ho letto è una stringa poi da questa stringa estraggo un numero e lo uso per fare le somme, le conteggi eccetera se però lui ha inserito un asterisco uscirà dal wild occhio che questo non funziona ancora perché lui chiaramente mi legge i numeri 3.1 0.2 meno 6 0 ci sta sta facendo la cosa giusta andiamo a vedere interrompiamo il programma e proviamo a eseguire in debug ok qui ho le mie variabili che sono conteggio uguale 0 letto uguale stringa vuota sommo uguale 0 sono arrivato alla riga 9 a questo punto faccio la input mi chiede il numero e inserisco 3,14 punto 14 allora letto è uguale guardate 3,14 come stringa vedete che gli ha messo le virgolette è una stringa che alla riga successiva converto in numero reale e lo metto dentro il numero poi incremento la somma quindi somma che valeva 0 perché così l'avevo interizzata si somma a 3,14 quindi adesso somma vale 3,14 conteggio che valeva 0 lo incremento adesso vale 1 e torno su a controllare se letto diverso l'asterisco letto adesso non è più la stringa vuota ma è l'ultimo dato che avevo inserito nell'iterazione precedente nell'iterazione precedente non avevo inserito un asterisco quindi è giusto che io vada avanti a leggere il dato successivo che sarà non so meno 3 che poi converto in reale num che poi aggiorno la somma e diventerà più 0,14 e poi con qualche cifra antipatica di arrotondamento sotto ma facciamo fin di non vederla incremento conteggio e mi dirà 2 adesso ho 2 numeri quindi se in questo momento volessi calcolare la media dovrei fare 0,14 diviso 2 e vado avanti così ok? quindi i numeri li sta calcolando giusti il problema qual è? il problema è che se io voglio veramente uscire inserendo un asterisco qua sotto sono sicuro che quando arriverò il while questo letto uguale asterisco mi farà uscire il problema è che non ci arrivo al while perché la riga dopo dove cerco di fare float di asterisco scatto il pernacchione adesso sono in debug quindi me lo stampa qua bello grosso non posso convertire una stringa in float se mi dai un asterisco certo quindi vuol dire che in realtà tutta questa parte di programma non è che la devo fare ciecamente la devo fare se ho un numero vero quindi solo se letto non è un asterisco allora faccio questi conti qua quindi leggo una stringa se questa stringa non è un asterisco sarà un numero lo elaboro come numero se invece era un asterisco qua rifarò il controllo e mi dirà che deve uscire adesso funziona quindi se inserisco 1,2,3 4,5 inserisco l'asterisco e mi dice che la media fa 2,625 e mi fido che sia vero allora in queste poche righe di codice in realtà si intrecciano due core due concetti un concetto è calcolare la media o calcolare la somma che è queste tre istruzioni qua anzi con in più le due di inizializzazione davanti quindi ogni volta che devo calcolare una sommatoria o una media o una produttoria o una qualunque cosa o una qualunque funzione che dipenda dall'applicazione della stessa formula o una serie di valori io parto con un valore iniziale dentro un ciclo applico la formula e alla fine del ciclo mi trovo il valore fatto e finito attenzione attenzione che queste due istruzioni qua sono qui non sono qui io non posso calcolare la media calcolarla chi se frega ma tantomeno stamparla non posso stamparla finché non ho letto l'ultimo dei dati quindi la stampa della media non va fatta ad ogni iterazione va fatta al termine di tutte le iterazioni dopo che il while si è concluso quindi inizializzo accumulo ecco un altro termine che usiamo in gergo abbiamo parlato di contatori di flag e questo è un accumulatore c'è una variabile in cui poco per volta si accumulano si aggiungono pezzettini di un valore finale in questo caso è un semplice accumulatore somma ma potrebbe essere un prodotto potrebbe essere un altro tipo di calcolo che faccio in cui poco per volta costruisco il valore che alla fine avrò definitivo e nello stesso tempo ho un contatore il contatore è una forma di accumulatore semplice in cui accumulo degli uni e alla fine mi dice quante volte ho fatto una certa cosa quindi ho dei cicli in cui vado ad aggiornare delle variabili e alla fine inizializzo metto 0 accumulo dentro e dopo che ho finito il ciclo controllo i valori e li uso e questa è la metà di questo esercizio l'altra metà è il controllo dell'iterazione e se il testo mi avesse detto leggi dei numeri fino a quando la loro somma non è maggiore di 100 avrei cambiato tutto se il testo mi avesse detto leggimi 4 numeri avrei cambiato tutto il testo mi dice leggi finché non trovi un asterisco e allora mannaggia devo separare le letture della stringa della conversione in float eccetera e vabbè è gestione del ciclo che è diverso dal calcolo del valore sono due cose separate perché tu puoi avere cicli gestiti in un modo diverso che calcolano cose diverse e le ragioni separatamente infatti la seconda dove era la slide la seconda esempio di nuovo conteggi di elementi se mi chiedessero se mi chiedessero facciamo un nuovo file eh lo salvo qua tranquillo in cui i strisci di numeri reali terminando il strisci con un asterisco e dimmi quante volte compare il numero 3 allora queste prime due righe mi dicono il lavoro che devo fare il tipo di controllo che devo fare quindi posso riusare tale e quale con l'esercizio precedente adesso lo copio uguale ma poi lo modifichiamo ma il calcolo che devo fare è diverso qui non mi interessa fare la somma non mi interessa fare il conteggio devo contare semplicemente quanti 3 ho visto e quindi qua dentro dovrò dire se il numero è 3 allora 3 uguale a 3 più 1 nella fine nella print dovrò dire che ho visto da 3 conta quante volte si verifica una certa cosa non guardiamo più queste istruzioni sono le stesse di prima guardiamo il corpo del ciclo il corpo del ciclo controlla se una certa cosa si verifica allora incrementa un contatore contatore che parte da 0 lui il contatore non sta governando il ciclo semplicemente una variabile che si aggiorna partendo ovviamente da un valore iniziale e arrivando al valore finale che poi uso che poi stampo dimmi è uguale qui se vogliamo essere espliciti sul fatto che è un numero reale posso scrivere 3.0 altrimenti 3 è un numero intero che quando lui l'operatore è uguale dice da una parte ho un float dall'altra un int allora prendo l'int e lo converto in float prima di confrontare quindi però per chiarezza possiamo scriverlo come reale se mi chiedessero dimmi quanti numeri positivi dimmi c'erano anziché quanti numeri 3 ci sono mi cambia questa condizione qua if num maggiore di 0 dimmi quanti numeri dispari dimmi quanti numeri multipli di 7 cambia la condizione ma lo schema è sempre lo stesso ho un contatore che si incrementa non ad ogni iterazione ma nelle sole iterazioni in cui si è verificata una certa cosa se uno dicesse ma dopo che hai letto il 3 puoi fermarti beh facile l'abbiamo già fatto prima no? è il valore sentinella leggi dei numeri fino a quando non hai letto un certo valore non hai incontrato un certo valore noi lo stiamo già facendo con l'asterisco quindi è un modo per uscire massimo e minimo quello è un po' diverso allora anche qua prendiamo un nuovo file lo chiamiamo maxmin inserisci il numero reale terminando l'inserimento questo qua lo lascio così com'è e stampa cosa ho fatto stampa il valore massimo inserito allora noi dobbiamo se spogliamo il 3 il massimo vale massimo ok noi dobbiamo calcolare un valore massimo il più grande di una serie di numeri che ho visto però lo dobbiamo fare dobbiamo pensare ad un algoritmo per farlo in modo miope cioè io posso vedere un numero solo per volta allora ti do dei numeri dico 3 è lui il massimo che ne so dipende da cosa mi darai dopo dipende anche da cosa ho visto prima ma io non ho il lusso di conoscere i numeri precedenti o il numero successivo io ho solo un numero che mi dà il numero corrente però è anche vero che con la somma per dirti il valore della somma devo averli visti tutti i numeri ma ad ogni interazione ne aggiungevo un pezzo allora vediamo se possiamo fare lo stesso ragionamento anche qua ad ogni interazione ne aggiungo un pezzo io posso pensare di conoscere inizialmente una prima ipotesi del valore massimo immaginiamo che siano numeri positivi aggiungo questo perché sono mincasino ok quindi il massimo sarà sicuramente qualcosa di maggiore di zero quindi se io parto con una prima ipotesi che il massimo è uguale a zero è un'ipotesi un po' sfigatella ma d'altronde quando ho detto prima sommo è uguale a zero nessuno si è preoccupato è il valore iniziale poi lo aggiorniamo dai man mano che vediamo i dati lo aggiorniamo e qui la stessa cosa vado a leggere un dato e dico ma il dato che ho appena letto è maggiore o minore del massimo se è maggiore del massimo oh scusate non si chiama max ma si chiama massimo non lo chiamo max perché c'è una funzione predefinita che si chiama max non voglio far casino se il numero appena letto fosse per caso maggiore del massimo allora è lui il massimo o meglio è migliore del massimo che conoscevo finora dimmi se l'inserimento se l'inserimento no qui c'è scritto che i numeri devono essere positivi ok l'ho aggiunto questo quindi cosa sto facendo sto dicendo io ho una ipotesi del massimo come valore parziale di una somma ogni volta che vedo un nuovo valore possono capitare due cose o il valore o il valore che ho appena inserito è minore o il più uguale al massimo che conoscevo finora e allora non faccio niente cioè se leggo un 5 ma io mi ricordavo che avevo già visto che la variabile massimo mi dice 10 vuol dire che in precedenza avevo visto un 10 e quindi questo 5 qua non mi serve non faccio niente se invece leggo 12 ci sarà che 12 è maggiore di 10 allora mi dimostra che l'ipotesi che avevo fatto di massimo che il massimo valesse 10 è migliorabile la posso sostituire con un'ipotesi migliore ho visto un 12 quindi il massimo secondo me è 12 non è più 10 ho il massimo provvisorio perché poi non so che dati vedrò dopo ok quindi in qualche modo ad ogni iterazione leggo un numero ero partito con un'ipotesi non ho visto nessun numero quindi il massimo boccano sarà 0 non ce l'ho man mano che vedo numeri la prima volta che leggo un numero ovviamente se il numero è positivo la prima volta che leggo un numero questo sarà sicuramente vero questa condizione sarà sicuramente vera e quindi metterò subito il massimo uguale al primo numero che ho letto poi alla seconda iterazione leggo un secondo numero se questo secondo numero è maggiore del primo allora aggiorno il massimo se è minore del primo era giusto il primo poi leggo il terzo numero e così via alla fine quando avrò visto l'ultimo numero la variabile massimo si ricorderà del più grande che ha visto e lo posso stampare per il minimo è uguale chiaramente ci sarà un minore anziché un maggiore e devo fare attenzione a come inizializzo i valori perché questo funzioni devo mettere un inizializzo del massimo a un valore che sia sicuramente più piccolo dei numeri che vedrò e il minimo dovrò inizializzarlo a un valore che sarà sicuramente più grande dei numeri che vedrò se non sono in grado di sapere in che range sono i numeri allora il trucco c'è sempre leggo i primi due numeri il primo numero scusate fuori dal ciclo e dirò che lui ha il massimo e il minimo temporaneo dopo aver letto il primo e poi gli altri vengono di conseguenza ok un'ultima frase e poi smetto un ragionamento spesso errato che tra l'altro è più complicato da scrivere in codice ma fa lo stesso è che alcuni pensano che per trovare il massimo devo confrontare ciascun numero con quello subito prima io quando leggo il quinto numero lo vado a confrontare col quarto no non devo andare a confrontarlo con quello precedente devo andare a confrontare col più grande che ho visto finora che non è detto che sia quello subito prima adesso qua non ci viene ma quando faremo le liste vedrete che è un errore che rischia di saltare fuori perché abbiamo comodi i numeri da prendere ok ci vediamo domani online alle 4 grazie a tutti grazie a tutti